Allora, l'idea era di fare una live session, dove i Saccardi, io e Cucchi avremmo fatto ciascuno di noi un quadro senza essere visto dagli altri, basandoci su una storia che ci sono raccontati la prima sera qui a Firenze, dove eravamo molto stanchi e allora abbiamo ridotto la storia in tre elementi, c'è un cadavere che sarà qui, in basso a sinistra, un ponte al centro con un cavaliere qui sul ponte, poi li vengono in alto a destra, questi sono i tre elementi che formano il quadro. Io sto ancora lavorandoci, i Saccardi l'hanno finito, Cucchi ha deciso di fare delle sculture.